Un matrimonio felice, un amore solido che ha portato al frutto più bello, una bambina che si chiama Vittoria. Ma in un attimo quell'amore e quella fiducia si sono trasformate in un incubo. La mamma di Vittoria, di origini brasiliane, infatti ha strappato alle braccia del papà, Fabio, residente nel tredicesimo municipio, la loro piccola, durante una visita ai parenti della donna, quando Vittoria aveva appena compiuto cinque mesi. A quel punto la moglie non ha voluto più saperne di Fabio, lo ha cacciato dalla casupola della famiglia di lei, da solo e in un paese straniero. Da quel giorno per Fabio la sua famiglia ha iniziato il calvario. Fabio ha tentato di parlare con la madre di sua figlia, ma lei, senza spiegare il perché, è removibile. La bambina, dice, deve restare in Brasile e Fabio deve stare lontano. Abbiamo intrapeso questo viaggio, ho fatto i biglietti per tutta la famiglia, di andata e di ritorno, per passare un mese lì e quindi anche passare alle ferie. Innanzitutto lì in Brasile dove? A Fortalesa. Terra di origine di tua moglie? Sì, lei è di Fortalesa, dove praticamente l'ho conosciuta e poi lei si è trasferita qui in Italia con me e ci siamo sposati. Siamo stati ospitati a casa della sorella, che tra l'altro l'anno precedente era venuta qui nella mia casa con i nipoti, mia ospite, e quindi ci ha contraccambiato e siamo andati a casa sua. Cos'è successo a casa della sorella e di tua moglie? Non sapevamo le condizioni di quella casa, né io né mia moglie, purtroppo era una casa abbastanza disagiata, stava in una zona malfamata, in una favela. Abbiamo passato la prima notte lì e chiaramente io, ospite della sorella, non ho detto niente, anche perché mi sembrava brutto, insomma, visto che ci hai ospitato, a casa tua purtroppo non hai condizioni per poterci ospitare. Quindi rispetto alla condizione in cui viveva la famiglia di tua moglie? Viveva, sì, anche rispetto alle condizioni in cui viveva mia figlia. Però per una vacanza si può anche sopportare. Infatti, purtroppo però la mattina dopo mia moglie mi ha detto su due piedi, io rimango qui con mia figlia e tu te ne torni a casa da solo. Come ti si è spiegato inizialmente questa richiesta, questo atteggiamento? Io l'ho presa come uno scherzo all'inizio perché non potevo credere a una cosa del genere. Poi di lì, Liti? Lì sono nati Liti fino a che ha rubato i miei documenti in casa, mi ha menato in casa sua, chiudendomi in casa della sorella. Allora Fabio, perché è molto importante specificarlo questo, questa cosa che stai raccontando, soprattutto delle percosse nei tuoi confronti, tu le hai registrate perché hai utilizzato il telefonino per difenderti in questo senso. Sì, perché non avevo modo di difendermi, anche perché sapevo che comunque uno straniero in terra straniera, qualsiasi cosa fa viene preso e messo in carcere senza diritto di parola. Può succedere, certo. Quindi dopo queste Liti lei ha rubato i tuoi documenti, ha sottratto anche quelli della bambina? Sì, ha sottratto pure quelli della bambina e mi ha letteralmente buttato fuori di casa. Ecco, buttato fuori di casa in quella zona, dicevamo comunque in una zona di periferia per non dire altro, e dove ovviamente uno straniero senza documenti cosa può fare? Sono andato al consolato, ho chiesto aiuto al consolato italiano lì a Fortaleza e loro hanno cercato comunque in maniera all'inizio amichevole di cercare di parlare con lei, ma non c'è stato nessun colloquio, niente, lei era irrimovibile. Ecco, ma irrimovibile su cosa? Qual era la sua richiesta? Che tu sparissi dalla sua vita e lei potesse rimanere lì in Brasile, in una favela insieme alla vostra bambina? Sì. Come ti spieghi questa cosa? Non lo so. Qui lei viveva bene? Viveva più che bene. L'aveva avuto tutto, sia per lei che non gli ho mai fatto mancare nulla. Tra l'altro lei non ha mai lavorato qui, praticamente faceva la casalinga e lavoravo solo io, ma non ha mai avuto nulla che gli potesse mancare. Tra l'altro anni fa, visto che lei comunque aveva il bisogno di vedere i parenti, gli ho pagato pure il bigliettario per lei per andare da sola a trovare i parenti. Ecco, quando era da sola e non c'era la bambina, lei è andata a trovare i suoi parenti ed è tornata tranquillamente? Tranquillamente. Questo prima di avere la bambina. Le liti si sono sosseguite anche quando Fabio è tornato in Italia, finché sembrava che uno spiraglio si fosse aperto. La donna dice a Fabio che in fondo è meglio che la bimba viva in Italia, ma che lei sarebbe rimasta in Brasile. Tutto questo in cambio di una casa di lusso, una macchina e un vitalizio per lei. Insomma, un ricatto. Sì, mi ha detto, ho capito che mia figlia qui non può stare e deve tornare in Italia, nella sua casa, perché lei c'è una casa lì. Dice però tu in cambio mi devi dare un appartamento qui, in pratica come se fosse Copacabana, un appartamento come in Italia fosse Parioli. Anche costoso. Una macchina per me e il mantenimento a vita per me. Quindi, tua moglie trattiene sua figlia, vostra figlia, dentro questa casa che non è la sua, ti caccia e dopodiché ti chiede un vero e proprio riscatto. Questa è la situazione. I carabinieri infatti hanno inoltrato la denuncia con la dicitura, un vero e proprio sequestro. Un vero e proprio sequestro, sì. Hanno detto che è un vero e proprio sequestro di persone. Io, non lo so, sto chiedendo aiuto a tutti. Qui ti sei rivolto naturalmente ai legali che si stanno mettendo in contatto con il Brasile, cioè attraverso naturalmente la Farnesina, il Ministero degli Esteri, che è stato interessato dal caso. C'è una possibilità che effettivamente si muovano le cose? Io mi auguro di sì. So che ci sono delle leggi firme internazionali per la tutela dei minori all'estero. Inoltre ho aperto anche una causa lì con gli avvocati in Brasile, stanno trattando la causa lì e non lo so. Io chiedo solo che mia figlia ritorni a casa. Io ho chiesto anche che tornasse tutta la famiglia a casa, dall'inizio. Quindi anche tua moglie? Sì, perché la bambina ha bisogno all'effetto di tutte e due. Certo, tu non vuoi naturalmente che lei rinunci a sua figlia, quello che invece lei ha chiesto a te. Tu qui a casa praticamente non metti più piede, vero? No, io da quando sono tornato non dormo più in questa casa, non ce la faccio. C'è tutto qui? Ci sono tutti i ricordi? Sì. Ci sono ancora tutti i giochi, c'è la sua stanzetta che è perfetta, una bellissima stanza. Sì, è pieno di ricordi di mia figlia qui. Ci sono anche delle foto, delle foto in cui siete veramente felici da quello che sembra, una bellissima famiglia. è una bellissima famiglia che non merita di finire così, vero? Sì. Anche i tuoi genitori, tutti, tua sorella, sono tutti sconvolti come te. Come stanno vivendo questi giorni? Purtroppo sono disperati. Io ho ottenuto la notizia, diciamo, fino all'ultimo. Non gli ho fatto sapere niente da Brasile perché avevo paura che potessero avere qualcosa di brutto. fino a che poi sono stato costretto gli ultimi giorni a parlare che sarei tornato da solo. Quindi loro aspettavano normalmente il vostro rientro a casa, invece sei tornato solo tu. Sì. Qual è stata la prima reazione? Mi hanno abbracciato e sono scoppiato in lacrime. Fabio, noi siamo sicuri che la giustizia farà il suo corso e che riporterà tua figlia da te. Naturalmente ce lo auguriamo soprattutto. Ce lo auguriamo per te, ce lo auguriamo per la vostra famiglia, ce lo auguriamo per Vittoria perché è giusto che viva nel paese in cui è nata, insieme alle persone che realmente le vogliono bene e che non fanno ricatti per avere il suo affetto. Certo, me lo auguro. Grazie. Fabio ha denunciato tutte le autorità, forte anche delle registrazioni effettuate con il cellulare durante i giorni passati nella baracca in Brasile. Ha assunto legali in Italia e in Brasile, ma se non ci sarà un forte interessamento del Ministero degli Esteri c'è il rischio che la vicenda finisca nel modo peggiore per Fabio e Vittoria. Purtroppo, infatti, in Italia, non soltanto, esistono centinaia di casi simili che coinvolgono paesi esteri e spesso le controversie finiscono solo perché uno dei due genitori cede, in un modo o nell'altro, alle richieste di chi è scappato.